I vostri commenti. Spesso e volentieri leggo con piacere i vostri interessanti commenti e questa non è la prima volta che dedico un video al riguardo ma a volte sono perplesso perché ad esempio è successo col video il virus secondo Tommaso lo scorso anno che è stato bannato dalla piattaforma youtube ma questa volta prendendo in considerazione che sovente chiedete di parlare di sovranità approfitto del commento speciale di andrea postato ieri martedì 2 novembre per chi desidera approfondire trovate un sacco di materiale online ma quanto segue si tratta di una spiegazione rapida chiara e sintetica chi cerca trova e chi trova la verità trova la libertà ciao dino vorrei cercare di far comprendere che nessun governo può avere giurisdizione sulla natura umana o meglio sull'uomo vivente giurisdizione verbo il verbo c'era l'uomo vivente ma se voi declassate la dizione con il termine giu rimarcate la dizione in un aspetto inferiore giurisdizione declassate il verbo passando dalla condizione di vivente di emanante il verbo ad una condizione di individui incapaci di autogovernare la vostra esistenza quindi inferiori non concedete la giurisdizione su di voi a nessuno tutto il diritto è basato su una frode l'unico diritto è il diritto naturale che da questi massoni satanisti non è contemplato dimenticavo inferiori il green pass è intestato al soggetto giuridico nome e cognome a carattere maiuscolo stampatello di proprietà dello stato non all'uomo vivente in quanto il governo è un ente giuridico o finzione giuridica perché non esiste o meglio esiste soltanto nella mente di chi lo accetta e in quanto tale può dialogare solo con un soggetto giuridico finzione giuridica e mai con un uomo donna vivente e così vale per licenze sanzioni tasse e quant'altro non è il vostro inferiori anche se sembra uguale al vostro non lo è è una copia del vostro appellativo non nome inferiori il quale vi è stato appioppato subito dopo la vostra nascita grazie all'atto di nascita che è un contratto che i genitori stipulano inconsapevolmente con lo stato italia e da quel momento siamo divenuti di sua proprietà non ascoltate questi invertebrati prezzolati per raccontare menzogne salutami testa di ginocchio con gli occhiali a fondo di bottiglia comunque accademici e medici improvvisati vi voglio bene come se foste normali se siete convinti che quel nome cognome carattere maiuscolo che trovate sulla vostra licenza di guida sulle bollette sanzioni o tasse provate a fare una bella cosa andate per esempio dal prefetto e chiedete se nella vostra che non è vostra patente che da ora in poi volete che il vostro nome cognome venga scritto a carattere minuscolo se effettivamente il vostro non vedo problema alcuno per cui non possono cambiare i caratteri ma vale per la patente come in tutti quei documenti o carte morte bollette tasse multe eccetera nelle quali è riportata la copia del vostro appellativo però a carattere maiuscolo provate e vedrete quanto vi daranno ascolto se è il vostro come credete non vedo il problema nel modificarne il carattere vi ricordo che noi veniamo al mondo come creditori e non come debitori grazie andrea del tuo commento ti confermo che addirittura se l'impiegato o l'impiegata di alcune banche scrive in minuscolo cognome e nome e il programma lo trasforma automaticamente in maiuscolo oppure non lo accetta